sono leo tu devi essere nancy vengo dentro sì ho fatto una lista delle cose che mi piacerebbe fare numero uno io pratico sesso orale a te numero due tu pratichi sesso orale a me numero tre facciamo un 69 non so se si chiama ancora così 4 io sopra 5 da dietro sembra tutto abbastanza fattibile ho prenotato il tempo giusto vuoi vuoi fare tutto questo oggi sì no non ho mai avuto un orgasmo ci sono suori che hanno più esperienza sessuale di me imbarazzante vuoi che mi la videnti oddio questo è folle è terribile è sbagliato si vieni a ballare con me ma se la persona non ti piace insomma come riesci a farlo c'è sempre qualcosa che mi piace c'è qualcuno una persona speciale una in particolare una oltre a te smettila non ho mai fatto niente di interessante nella mia vita sei l'unica avventura che ho avuto avrei potuto fare altre cose se non fossi stata madre quali per esempio attraversare il deserto a cavallo fondare una colonia di artisti su un'isoletta tropicale avere un orgasmo tua madre cosa pensa che fai che lavori su una piattaforma petrolifera sì una piattaforma nei mari del nord mi sono sempre vergognata del mio corpo hai un corpo bellissimo dovresti vederlo rivolgo i tuoi 16 anni no non rivolgo i miei 16 anni voglio la sensazione di avere 16 anni quanti anni aveva la più vecchia con cui l'hai fatto 82 82 82 82 82 ok mi sento meglio adesso